E ricordiamo che siamo contenti di questo Abbastanza Goal! 1-1 E notiamo che non solo Dino c'era su col mostrare il culo dopo il gol Ma il Valentini Subisce questo gol Sta subendo questo gol Ti pesa vuota 1-1 signori Così non è a posto Se vuoi ti insegno come si mettono il micro Si è fatta a tesa Sai con me vanno giù Con te rimangono su Non ho mai capito sta cosa Vai!